Levata di scudi della Safeti, la sezione del suo sistema Confindustria che rappresenta i produttori e i distributori dei dispositivi di protezione individuali contro il prezzo calmerato delle FFP2 0,75 centesimi. In un'altra inviata al commissario Fiuolo e al Mise si contesta la scelta del prezzo al pubblico affidato ai soli distributori senza creare il minimo collegamento con i produttori di mascherine. La richiesta di assolutenti è di aprire un tavolo per preferire un prodotto italiano per le farmacie rispetto ad un prodotto importato per il 90% dalla Cina.